Esiste un parallelismo tra sport e qualsiasi attività imprenditoriale, un parallelismo basato sull'impegno a performare. Io sono Giada Civitico e sono una giocatrice della Volle Academy Sassuolo e con le mie compagne milito nel campionato di Serie A della pallavolo femminile. Non voglio annoiarvi con le solite storie su come raggiungere il successo, perché nessuno sa in realtà cosa sia il successo. Il successo infatti siamo noi stessi a stabilire cosa sia, con le nostre azioni. L'importante è l'impegno, che è sempre comunque sacrificio, rinuncia, fatica, poi vengono i risultati. Come sportiva non giudico i risultati di una persona. Giudico il suo impegno nel raggiungerli, perché so che senza impegno non può esistere niente. Premetto che non sono un'esperta di borsa o di investimento finanziario, ma mi ha davvero colpito il corso Riuscire in Borsa, perché deve essere qualcosa di impegnativo con le sue oltre 100 ore di video e la promessa di durare con gli aggiornamenti per l'eternità. In altre parole, un corso è per gente tosta, che ha fatto una scelta decisa e rigorosa, e vuole indietro i risultati in un settore, quello della borsa, dove penso nessuno regali niente. Un po' come nello sport e nella pallavolo in particolare. E mi piace che si parli di riuscire, perché tu non sai quando davvero riesci. Se anche ottieni risultati devi sapere che riuscire è come un limite che tende sempre all'infinito, perché sempre richiede impegno e sforzo. Il punto infatti non è essere il migliore, ma diventare la miglior versione di se stessi. Parola di Giada.